Una buona e una cattiva. Sono due le notizie emerse dall'atteso incontro di ieri a Roma tra l'Eni, i sindacati e il ministro allo sviluppo economico Claudio Scaiola. Da un lato l'azienda guidata da Paolo Scaroni si è impegnata a salvare Vainis Italia, la società acquistata due mesi fa dall'imprenditore trevigiano Fiorenzo Sartor e mai avviata completamente. Dall'altro però ha comunicato che rinuncerà alla Sindial, cioè al ciclo del clorosoda. Eni potrebbe agire a secondo due strade, o subentrare direttamente a Sartor e gestire in prima persona le produzioni di PVC-CVM, concentrando però la produzione di materie prime negli stabilimenti di assemini, oppure limitarsi a fornire le materie prime all'imprenditore che rileverà la Vainis. La condizione è che si tratti di un soggetto affidabile, che si faccia carico degli 80 milioni di debito che Sartor deve all'Eni. In ogni caso, stando alle dichiarazioni del ministro Scaiola, la Vainis dovrebbe salvarsi. Oggi stesso il Tribunale di Venezia si pronuncerà sull'amministrazione straordinaria, nominandosi spero un commissario che prendere in mano la situazione, cercando di evitare il fallimento e salvaguardando più posti di lavoro possibile. Tra 15 giorni la prima relazione ha un nuovo tavolo nazionale sulla chimica. Nonostante questo, però, i sindacati hanno confermato lo sciopero nazionale della chimica e dell'energia fissato per mercoledì 24 giugno.